Bene amici, oggi voglio mettere a confronto 3 Samsung, secondo me ha senso come confronto anche per vedere un po' l'evoluzione dei device in questa casa A8 ovviamente versione 2018, A5 versione 2017 che al prezzo attuale è veramente un best buy e poi ho messo lì anche l'S7 perché ormai si trova a livelli di prezzo paragonabili a quelli di A8 e voglio anche vedere come va un top di gamma dopo due anni dal lancio Partiamo da parlare di materiali, estetica, touch and feel, tutti questi tre telefoni sono impermeabili le dimensioni le vedete sono più o meno lì, anche i materiali sono più o meno lì tutti fatti con frame in alluminio e fronte e retro in vetro ma vedete A8 segue la moda, il trend, chiamatelo come volete e ha un display allungato 18,5 a 9 come rapporto di forma con anche i bordi leggermente stondati cosa cambia? Sostanzialmente che questi due telefoni sono un po' più moderni e hanno la tipo C per quanto riguarda la USB mentre l'S7 è rimasto ancora con la vecchia micro USB e poi l'altra grande differenza A5 e S7 pulsante davanti e A8 invece con questo display più allungato che toglie spazio sopra e sotto ha il sensore di impronte digitale messo dietro però finalmente simmetrico rispetto alla simmetria che avevamo visto su S8 e poi lui è l'unico che ha lo sblocco con il riconoscimento del volto ma parliamo di display allora vado su tutti e tre i telefoni dentro nella galleria nella cartella di test sono tutti display con una tecnologia Super AMOLED 5,6 pollici 441 ppi 5,2 pollici 424 ppi 5,1 pollici 577 ppi perché ha una risoluzione superiore all'S7 per quanto riguarda però la qualità dell'immagine la sensazione proprio ad occhio questi tre telefoni sono veramente paragonabili i bianchi sono anche qua più o meno gli stessi vedete anche la luminosità sono tutti e tre settati alla massima luminosità con il sensore di luminosità disattivato i neri sono ovviamente su tutti e tre telefoni molto profondi ho rilevato però una cosa su S7 dopo due anni d'uso ok non l'ho usato tutti i giorni però comunque nella media dell'uso è sicuramente stato usato più degli altri smartphone non so se avete notato ma il display è un pochino meno oleofobico cioè ha perso quella patina quella protezione di oleofobicità sul vetro che viene applicata di serie e di fabbrica però sostanzialmente è veramente difficile notare le differenze parliamo di autonomia 3000 mAh, 3000 mAh, 3000 mAh hanno esattamente la stessa capacità di batteria ma i processori sono diversi e non è tanto una questione di usura di batteria dopo due anni appunto di cantinetta ma è proprio guardate qua 70% S7 premessa li ho caricati tutti allo stesso modo li ho usati tutti allo stesso modo per fare i miei pretest prima di girare la recensione e gli altri due sono paragonabili a 8 e a 5 tutti e due l'80 e 81% mentre il S7 vedete è al 70% quindi se con questi due smartphone io riesco ad arrivare la sera con un 10% di batteria residua più o meno con S7 ci arrivo ma utilizzando i risparmi energetici perché lui ha circa un 15-20% di autonomia in meno e questo è proprio dovuto al processore più energivoro e da questo punto di vista 2017 ma anche il trend del 2018 mi piace perché un po' tutti gli smartphone finalmente anche i top di gamma hanno una buona autonomia mi ricordo che nel 2016 anno di S7 con i top di gamma era veramente difficile arrivare a sera senza utilizzare i risparmi energetici mentre smanetto con le applicazioni vi parlo di hardware e di prestazioni Exynos 78-85 sulla 8 78-80 sulla 5 con 3-32 qua abbiamo 4-32 S7 4-32 con il top di allora l'Exynos 88-90 come sono le prestazioni? qua la prova è interessante vi ho fatto vedere Instagram adesso faccio l'apertura del gestore delle pagine anzi facciamo una bella cosa prima di tutto perché così li facciamo partire tutti pari chiudo tutte le applicazioni e rifacciamo prima Instagram e avete visto si è aperto in tutti e tre telefoni nello stesso tempo poi apriamo il gestore delle pagine facciamo 1, 2, 3 vediamo cosa succede ok 1, 2 e 3 da questo punto di vista la 5 si vede che ha un processore leggermente più lento invece A8 e S7 più o meno ormai li do alla pari facciamo la prova del 9 quindi proviamo ad aprire Real Racing e guardiamo cosa succede 1, 2, 3 più o meno li ho schiacciati allo stesso momento guardate S7 e A8 arrivano praticamente contemporaneamente mentre A5 arriva un filino dopo e questo rispecchia esattamente le prestazioni di questi smartphone ormai il processore A8 che oggi è un processore da medio di gamma arriva alle prestazioni velocistiche di un S7 di due anni fa mentre A5 non dico che lagga che è lento che non è usabile ma usabilissimo tutti i giorni però rispetto a A8 ed S7 è un pochino più lento ma vediamo lo speed test anche qua come vedete A8 ed S7 sono allineati un po' più lento l'A5 che soffre un processore un po' meno potente quindi ci mette un pochino di più a elaborare i dati e quindi anche il wifi di conseguenza è un filino più lento uso quotidiano cambia poco però a livello prestazioni abbiamo visto come un medio di gamma odierno è veramente uguale a un top di gamma di due anni fa software e usabilità allora da un punto di vista di come si tengono in mano ve lo dicevo all'inizio sono tutti e tre telefoni che hanno le dimensioni secondo me giuste proprio per essere usati quotidianamente tutti i giorni software abbiamo delle differenze entriamo subito nelle impostazioni a vedere le varie informazioni proprio sul software eccoci qua abbiamo Android in versione 7 su tutti e tre la notizia interessante è che su tutti e tre questi telefoni arriverà Oreo e da questo punto di vista applauso a Samsung perché comunque devo dire ultimamente da quando li seguo in cantinetta aggiorna spesso e volentieri i propri telefoni però abbiamo la Samsung Xperience su A5 e A8 versione diversa una dall'altra mentre abbiamo non abbiamo la Samsung Xperience sull'S7 cosa cambia le pezzi di sicurezza sono più o meno lì su tutti e tre i telefoni beh sostanzialmente su A8 e A5 abbiamo lo swipe in alto per aprire le diciamo il drawer non c'è su S7 c'è ancora il pulsante per le applicazioni non abbiamo faccio un esempio a caso area personale e i doppi account su S7 invece ci sono su A8 e A5 non so se con Oreo arriverà mentre su A8 abbiamo l'unico dell'otto BigSpeak che dovrebbe arrivare anche in italiano tra qualche tempo non è stata ancora annunciata una data ma il fatto che arrivi in italiano è certo mentre c'è update sugli altri due smartphone nell'uso quotidiano non sono differenze particolarmente apprezzabili forse però nell'usabilità il fatto di fare swipe su e swipe giù per aprire notifiche e aprire le applicazioni beh è una cosa che apprezzo anche se sono molto usabili quindi anche andare a tappare con applicazioni non ci cambia la vita fotocamera interfaccia leggermente diversa ma il concetto è lo stesso su tutti e tre i telefoni abbiamo una doppia fotocamera anteriore sulla 8 con 16 più 8 megapixel con anche la possibilità della diciamo di una semi grandangolare anteriore non è super grandangolare mentre dietro 16 megapixel da una parte 16 megapixel dall'altra con 16 davanti e qua abbiamo 12 megapixel con un anteriore da 5 per valutare invece le foto andiamo un attimo sul pc eccoci sul blog venite a vederlo così potrete rendere conto di persona come S7 partendo dalla panoramica abbia una qualità fotografica abbastanza superiore vediamo dalla scritta moschino qua un pochino più definita sulla sinistra a 5 che è il peggioro dell'8 sulla destra a 8 che si comporta un po' meglio ma non è a livello di S7 questo anche per quanto riguarda i colori che sono comunque abbastanza equilibrati su tutti e tre gli smartphone ma comunque S7 spicca proprio per quanto riguarda il dettaglio poca luce anche qua vince inesorabilmente guardate per esempio la lattina là dove c'è scritto dash questa è la foto fatta con S7 questa è la foto fatta con A5 si fa quasi fatica a leggere questa la foto fatta con A8 che è un po' una via di mezzo tenete presente che queste fotografie fatte con poca luce sembrano molto luminose ma in realtà c'era veramente poca luce qua nella mia cantinetta è che i telefoni comunque ne catturano di più rispetto anche all'occhio umano soprattutto se hanno e tengono un'esposizione più lunga camera anteriore invece qua ho la preferenza per l'A8 non tanto perché possa fare l'effetto bokeh con la camera anteriore quanto perché ha la possibilità di avere la doppia camera quella anche un pochino più grandangolare comunque anche S7 abbastanza grandangolare ma soprattutto ha un effetto profondità di campo naturale che mi piace di più guardate la foto fatta con S7 è molto piatta lo sfondo praticamente a fuoco come la mia faccia mentre su A8 questa è una foto fatta senza effetto bokeh software la mia faccia è a fuoco mentre lo sfondo è sfocato naturale A5 A5 ha sempre questa profondità di campo però purtroppo impasta tutto con la sua camera anteriore adesso state vedendo i tre video di questi tre smartphone e sui video c'è veramente un abisso tra S7 i suoi 1080p 60fps ma può fare anche video in Ultra HD e la 5 che fa video bruttini ma anche la 8 che non riesce a essere così valido come S7 è vero un filino più stabilizzato di A5 ma ancora sui video S7 regna ma adesso la prova audio non chiedetemi perché ma mi diverto un sacco a usare Spotify in questo modo vai A8 altoparlante laterale molto potente A5 altoparlante laterale un po' meno potente S7 potenza e qualità simile da A8 ma altoparlante sotto quindi con la criticità che quando lo utilizziamo guardando un video magari così lo andiamo a tappare più o meno lì anche la parte telefonica ricezione e qualità ma S7 ha una qualità migliore dell'audio in cuffia e allora passiamo al prezzo e a quale ha senso comprare andiamo su pagomeno.it che utilizzo come comparatore A8 399 euro street price ci presentato a 529 pochissimi giorni fa c'è però da dire una cosa se lo comprate su negozi diciamo convenzionati Italia c'è l'elenco sul sito di diciamo di Samsung ma mi sembra anche che Amazon spedito e venduto da Amazon rientri in questa in questa promozione vi regaleranno se comprerete la 8 un VR e addirittura un J3 tra l'altro qua abbiamo venuto in mente un'idea di riprovare un J3 per fare una prova un po' particolare proprio perché c'è questa promozione ma non solo se comprate una 8 anche se comprate un S8 o un Note 8 vi regaleranno un J3 quindi un prezzo a questo punto interessante a 5 225 euro il prezzo migliore si attesta su 250 magari sui venditori un pochino più affidabili secondo me è il miglior rapporto qualità prezzo tra tutti questi tre e se volete risparmiare un po' il Samsung che vi consiglio S7 ormai secondo me ha poco senso perché si trova 360 370 380 e a parte la fotocamera dove abbiamo visto ha le prestazioni migliori per il resto le prestazioni di uso quotidiano sono paragonabili ad A8 un pochino superiori ad A5 ma non non così tanto insomma ormai ha poco senso anche soprattutto alla luce del fatto che la batteria dura un po' poco tra A8 e A5 beh sicuramente A8 più bello più prestante ma con un pulsante dietro e magari per i nostalgici del pulsante davanti rimane sempre molto comodo ha senso l'A5 A5 che però come prestazioni è inferiore ad A8 anche per quanto riguarda la fotocamera però costa un bel 150 euro in meno quindi ragazzi che dirvi a questo giro a me A8 piace e ve lo consiglio però A5 è il best buy del momento un saluto da Andrea Galeazzi punto com